ciao a tutti ragazzi benvenuti sudani come va allora ragazzi siamo arrivati su un video che volevo assolutamente fare perché volevo dedicare questo video a tutti gli iscritti anzi a tutte le persone che mi seguono che hanno magari sentito parlare di me che hanno magari intravisto qualche mio video volevo assolutamente augurare buone feste buon anno a tutti voi tanta felicità tanta salute e speriamo raga che vada tutto bene sperando che si risolva tutta questa situazione del virus di situazioni che attualmente non sono assolutamente positive in questo mondo in senso parlando di gente morta per il virus gente in ospedale gente che magari se ne frega e va in giro allo stesso e niente io comunque ragazzi spero che tutta questa situazione ritorni come era prima o comunque arriviamo al magari al 60 50 60 per cento di come eravamo prima bisogna è una cosa che comunque bisogna condividere con il virus fin quando non abbiamo i vaccini fin quando tutta questa situazione qua non si stanzia tra virus e noi umani diciamo e niente ragazzi comunque volevo augurarvi a tutti voi buon natale buone feste fate cioè divertitevi mangiate ridete scherzate perché questi sono i momenti più belli da condividere con la propria famiglia da stare insieme e divertirsi tutti quanti insieme con fratelli sorelle cugini anche se purtroppo questo natale si può stare veramente in pochi nella nella propria abitazione questo è comunque l'augurio che gli faccio io riguardo dalla parte del canale questo anno qua mi è piaciuto veramente tanto sul canale perché siamo cresciuti molto riguardo cioè parlo per me perché per me siamo cresciuti molto mi auguro ovviamente che nel prossimo anno riusciamo a crescere ancora di più soprattutto anche perché mi voglio impegnare al cento per cento a fare e a pubblicare moltissimi contenuti e molto più frequentemente ragazzi mica come quest'anno che ho pubblicato video a distanza l'uno dall'altro un mese oppure due settimane è stato sia perché sono stato occupato in tantissime cose in tantissime mie faccende personali ma anche perché ragazzi non non ero del tutto sicuro se i contenuti che volevo portare piacevano o no quindi no mi è piaciuto molto la cosa che mi è piaciuto in assoluto di quest'anno è The Walking Dead che finalmente l'ho finito è stata una serie veramente spettacolare che a me è piaciuta veramente veramente tantissimo mi sono commosso in tante parti è uno dei giochi più belli in assoluto come serie che ho fatto che ho portato sul canale adesso ragazzi porterò anche la seconda stagione che è in arrivo è in elaborazione avete capito per comunque portare gli stessi contenuti le stesse emozioni che ho dato nel primo The Walking Dead perché comunque il mio primissimo scopo sul sul canale ragazzi è far piacere il contenuto che sto portando ovviamente a chi guarda divertire me divertire voi divertirci insomma tutti insieme perché se si diverte tutti insieme è molto più bello e si guarda un video molto più volentieri detto questo ragazzi piccoli spoiler diciamo in nel prossimo anno cosa voglio portare voglio portare sicuramente tantissimi giochi magari in più episodi in più capitoli per poter riuscire a prendere più gente perché penso che più giochi si porta più la gente ti conosce e poi dice però quello youtuber fa quel gioco mi iscrivo mi tengo aggiornato perché mi piace e quindi questa cosa qua mi colpisce molto quindi un obiettivo è sicuramente portare più giochi ovvero più contenuti più challenge più vlog che può essere vlog in montagna in bicicletta in qualsiasi altra parte dove dove mi capita cercando di fare più esplorazioni in case abbandonate anche perché adesso sto guardando nel posto dove abito ma più di tante case non ci sono ragazzi e niente detto questo niente ragazzi io mi auguro che il mio canale cresca sempre di più per me e anche per voi spero di riuscire a soddisfare con i miei contenuti voi con la felicità con i giochi tutto il resto detto questo ragazzi non voglio più prolungarmi più di tanto anche perché oggi è natale quindi cosa c'è di più bello ragazzi se non augurarvi buon natale mangiate tanto ragazzi divertitevi perché oggi è una giornata speciale da stare insieme a tutti i vostri parenti fratelli o comunque anche solamente una chiamata per dire ciao come stai buon natale è veramente molto bello detto questo ragazzi vi auguro buon natale statemi bene noi ci vediamo il 7 o l'8 gennaio quando appunto finiscono le feste perché voglio prendermi un po di pausa anch'io e niente buon natale ragazzi divertitevi siate felici e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi